Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon dall'amico Dario Bagatin che mi chiede di parlare del film Dampir del 2022 italiano di Riccardo Chemello basato sull'omonimo fumetto appunto della Sergio Bonelli che qui tira fuori l'universo cinematografico Bonelli che dovrebbe fare appunto film o serie tv o via dicendo ma questo film ha fatto un tale flop che boh non lo so però è stato venuto tantissimo nel mondo quindi vedremo dopo un incipit dove vediamo nascere un bambino una cosa molto particolare anche ben fatta ci troviamo nel 1992 nei Balcani durante la guerra praticamente e questi soldati guidati da questo Kuriak devono rimanere fermi in questo posto Yorvolak ma però mentre sono lì vengono massacrati da questi esseri che sembrerebbero non essere umani e appunto uno dei soldati Lazar del posto dice che hanno bisogno del Dampir ovvero Arlan Draka che con il suo aiutante Yuri praticamente fa esorcismi a giro per tutto appunto l'ex Jugoslavia solo che in realtà è un truffatore è tutta una farsa finché non si scopre invece che a un certo punto il suo sangue uccide veramente i vampiri e allora a quel punto la Fidan comincia a diventare enorme e comincia ad entrare in ballo un vampiro capo e comincia a venire fuori insomma la vampira e tutto quello che succederà in questo film che non voglio raccontare più di tanto perché è un film che comunque non ha visto quasi nessuno una specie di prequel dove scopriamo appunto Dampir e i suoi poteri dove lo mettono di fronte a determinate scelte che lui doveva fare sin dall'inizio per un film tutto sommato gradevole sinceramente è un film che purtroppo è costato 15 milioni e qui anche ha stato pochissimo però è un film che in un certo senso è molto internazionale seppur non essendo perfetto perché è un film probabilmente dove gli effetti potevano essere curati ancora un pochino meglio dove ci poteva essere più sangue dove poteva essere ancora più horror in un certo senso ancora più lento il gotico si è cercato di raggiungere un certo tipo di azione un certo tipo di americanizzazione del tutto che comunque funziona abbastanza bene nel senso che comunque la trama scorre ci si diverte c'è poco da dire in quel senso Wade Briggs non è proprio Ralph Fiennes come era appunto nel fumetto di Dampir però riesce a fare il suo alma in maniera decorosa come tutto il resto del cast tra l'altro i costumi sono molto buoni ecco ripeto le scenografie sono ben fatte una bella fotografia con delle belle musiche di Tomio però c'è una sceneggiatura però è fatta da quattro persone che ogni tanto sbanda un po' e si mescono un po' troppe cose e per arrivare al punto secondo me ci mette anche un pochino troppo probabilmente questo è il vero difetto del film film comunque che funziona per quello che deve funzionare io poi non sono mai stato un grande lettore di rampi e non avevo letto i 20 numeri forse in tutta la mia vita però posso dire che insomma il film l'atmosfera la prende giusta quella dei Balcani degli anni 90 è un film abbastanza triste in quel senso l'ideonia è messa al punto giusto e insomma poi a un certo punto il film diventa anche una specie di road movie che non la rida a Sarajevo dove insomma tutto sale ancora di più perché insomma la nostra vampira che lui ha incontrato a Tari Tesla lo porterà dal suo capo perché lo odia e lo vuole fare uccidere e di quel fumetto ripeto ha la giusta malinconia ha un giusto tipo di regia che non è assolutamente malvagia comunque ripeto a me per questo Dampir me lo compro che è uscito e per me diventa mio perché comunque per me è un film credevole Vampiri mi carabano sempre i Dampiri ancora di più l'ambientazione è fantastica e tutto sommato il film si guarda abbastanza bene sono veramente dispiaciuto che abbia fatto un flop perché ero dell'idea che se questo avesse incassato 20-30 milioni forse qualcosa si potrebbe potuto smuovere perché Labonelli era forte e grossa quindi se fa grande successo magari ripunta a far fare altri 3-4 film magari a giovani registi appunto indipendenti o a grandi glorie che potevano riuscire a tirare su un po' il genere in Italia ma che qui al solito ha incassato 300 mila sotto una distribuzione allucinante una pubblicità che non esisteva per un film che sembrava quasi fatto per fargli fare il flop e questa cosa io non l'ho assolutamente capita non se n'è mai parlato è stato respinto totalmente dal pubblico ma anche totalmente da chi ne doveva parlare quindi zero pubblicità per un film che era praticamente un flop annunciato visto che non se n'è parlato quando è uscito Toysh era Dampir fine dei lavori niente di niente e alla fine insomma se lo sono trovato sul gruppone anche se da quello che so all'estero è andato benissimo insomma appunto si prospetta anche di poterne fare un 2 perché ripeto nel resto del mondo è stato andato alla stragrande sul Netflix dove cazzo lo hanno messo per me rimane un film come ho detto gradevole e soprattutto un impegno insomma per un certo tipo di produzione italiana che andava premiato al di là della qualità che va su e va giù insomma ma si poteva fare di meglio ma si poteva anche fare di peggio l'unica cosa che si poteva fare davvero di meglio è che uno spettatore ci sa andarsi di più a vederlo al cinema ma se uno non sa nemmeno che c'è il film è anche difficile andarla a vedere comunque il link è qua sotto da sul pato mi piace iscrivetevi al canale qui sotto c'è anche il pulsante super grazie per donare direttamente su youtube seguitemi su facebook e su instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'italia ripeto questo Dampir è un cinefumetto all'italiana che cerca un po' troppo secondo me a livello di regia un'estetica americana che lo rende confuso in quel senso non lo rende preciso aveva bisogno di un'estetica secondo me molto più cupa e molto più vicina al sistema europeo proprio di visione ma insomma visto nel contesto e visto nel mezzo a tutto quello che si produce in italia questo film qui andava di molto aiutato e io spero che questa mia recensione porti perlomeno qualcuno a dargli un'occhiata perché almeno una se la merita